Siamo pronti, questa è un'edizione ancora più impegnativa perché ci ha visti anche un po' coinvolgere il mondo dell'università dal punto di vista della valutazione di alcuni testi dei racconti editi che noi abbiamo affidato a circa 20 ragazzi dell'Università Gabriele D'Annunzio che hanno letto e studiato e il Verdi appunto iniziamo con loro che esprimeranno un giudizio, un voto e sarà il premio speciale ai ragazzi un premio che verrà assegnato da loro a uno dei cinque finalisti della narrativa edita. Sarà un'edizione impegnativa come dicevo anche per il fatto che sono stati tanti gli autori che hanno concorso ma soprattutto autorevoli case editrici, giornalisti ma anche poeti, insomma tanti che hanno voluto in qualche modo cimentarsi in questa selezione attenta della giuria di Premio Maiella e che vedrà appunto il 20 luglio la serata quella clou, quella dove si saprà chi sono i vincitori. Ma noi abbiamo quest'anno anche un'edizione speciale, in pratica abbiamo affidato alla presidenza della giuria affidata alla giornalista, conduttrice dei fatti vostri, la nostra italianissima Roberta Morise che sarà appunto a presidere la 22esima edizione accanto ai due direttori artistici Marco Presutti e Daniele Dalimonte. Quindi si partirà poi per un'avventura la domenica a Vale Giumentina per conoscere qual è l'avanzamento degli scavi archeologici in corso ma soprattutto si è parlato di ambiente e territorio di futuro, visto che l'ambiente che 22 anni fa quando nasceva il Premio Maiella non era ancora un argomento così attuale da parlarne nei premi letterari è diventato dopo 22 anni anche importante tema delle agende nazionali, dei vari governi. Tornano gli scrittori dalla Penna Verde, 22 edizioni di successo per questo premio. Io direi che questo è un bene del patrimonio culturale dell'Abruzzo, del Premio Parco Maiella proprio per questa scelta di voler premiare e mettere sotto un'attenzione coloro che dedicano il loro impegno letterario e scientifico al rapporto con l'ambiente. Le cronache di questi giorni ci ricordano che l'uso che noi abbiamo fatto della natura non va bene e ci vuole un pensiero lungo, un pensiero che porti noi e soprattutto i più giovani a concepire in un modo diverso e più sostenibile il nostro rapporto con la natura. Per questa ragione è importante sia informarsi bene, con qualità e la sezione esaggistica è una sezione molto importante. I finalisti sono stati scelti da più di 30 testi che hanno concorso a questa edizione ma anche la rielaborazione umana, la rielaborazione interiore che la narrativa e la poesia portano avanti cioè attraverso il filtro dell'immaginazione e della memoria anche del recupero di momenti, di stagioni in cui la vita dell'uomo nel pianeta era una vita più sostenibile, più ecocompatibile. Grazie.